Buongiorno a tutti, sono il Tita Maraschini, socio fondatore della SAMLAPS. Sono qua per invitarvi a supportare le priorità emerse durante il bilancio partecipativo del quartiere San Vitale e San Donato, tra cui cultura, aggregazione e inclusione, tematiche care a SAMLAP da sempre. Votare è semplice, basta collegarsi alla piattaforma della Fondazione Innovazione Urbana e accedere tramite account Facebook, Rete Civica, Federa, Speed e quant'altro. Possono votare sia i residenti che i domiciliati, gli studenti, i lavoratori pendolari, fricchettoni e bagonghi vari ed è sufficiente avere 16 anni di età. Fate questo sforzo, un saluto alla SAMLAP.